su tutti i corpi inferiori cerchio ifiora attraverso tullia e gian sfumatura di sentire anonimo beh certamente non sono una bellezza non sono altissimo non ho una muscolatura perfetta sorrido un po storto perché mi manca un dente e non vorrei farlo vedere qualche capello bianco di troppo però malgrado questo devo dire che ho un certo fascino questo me lo riconosco sì 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 e sì scifo e così attraverso questa copertura illusoria creata dall'io ecco che anche il corpo fisico visto attraverso gli occhi e lo sguardo dell'io incomincia a possedere le caratteristiche che in realtà non possiede ma che fa piacere all'io immaginare che possieda però tenere questo però è necessario che l'io influisca su tutti i corpi inferiori dell'individuo è necessario che l'io influisca sulle emozioni sui sentimenti e principalmente essenzialmente su quelli che sono i pensieri e le concatenazioni del corpo mentale perché questo circolo che si crea ricordate le tabelle che vi abbiamo fatto pervenire queste vibrazioni interne che attraversano in modo circolatorio l'io sono quelle che gli permettono di cercare di costruire di volta in volta la realtà adattando le proprie vibrazioni interne a quelle che sono le proprie esigenze o almeno cercando di farlo vibrazioni interne a quella… Grazie a tutti